Quanto salvi rappresenterò Roma e la mia romanità su Faice e Ciocca questo nuovo portale che farà invidia al nostro Facebook dove verrà evidenziata la nostra nazionalità noi fratelli d'Italia e romani di Roma vi aspettiamo su Faice e Ciocca clicchate su Roma e apparirò io, tutto preciso, caruccio e pettinato Ehmbe!